A 22 di stasera alle 7 di mattina ci sono i carabinieri e la polizia di Stato, i carabinieri di là e la polizia di Stato, più di questo non possiamo fare, ovviamente. Quindi sia la polizia locale che i carabinieri, la polizia motica è più. No, no, la notte perciò abbiamo messo i fari per illuminare, quindi per dare la possibilità insomma alle persone per dire, insomma noi siamo qua.